24 settembre ore 11 dalla palla di pomodoro un appuntamento che pesaro vede partecipe da anni in concomitanza 82 città italiane in favore di aile posso soltanto dire partecipate numerosi perché la vostra partecipazione tra l'altro è a fronte di un'offerta di 10 euro dove ogni partecipante riceverà è una sacca sportiva con dentro dei gadget carini molto carini alla maglietta eccetera eccetera a fronte di 10 euro di contributo per questa cosa dove andranno questi questi denari andranno al sostegno della ricerca andranno al potenziamento delle cure domiciliari e soprattutto andranno in aiuto a quelle persone che hanno bisogno di aile e che da tanti e tanti anni ospitiamo al villaggio e non a caso il prossimo anno quando pesaro sulla capitale della cultura a il pesaro per l'appunto compirà 50 anni e quindi stiamo preparando una grande festa in per questa cosa perché in 50 anni di cose ne sono state fatte tantissime sono onorata di partecipare a questa iniziativa organizzata da aile in occasione della giornata mondiale per la leucemia io nel mio lavoro mi occupo di promuovere uno stile di vita sano e attivo attraverso l'attività fisica ed è per questo che un canale social che è seguito da più di 130 mila persone sono felicissima perciò di guidare tutti i partecipanti a questa bellissima manifestazione quindi ci vediamo domenica vi aspetto numerosissimi richieste sono arrivate tanta gente chiede dove si può trovare e ricordo che l'appuntamento è dalle 9 30 alla palla di pomodoro poi puoi partire alle ore 11 per questa camminata pesarese tra alle 11 dalla palla del pomodoro di pesaro si proseguirà in direzione moloco e poi si tornerà indietro verso il casco di valentino per poi terminare di nuovo alla palla del pomodoro grazie! grazie!